Assessore, chiariamo alcuni aspetti di questa vicenda dei semafori, di questo cimitero di semafori non funzionanti, appesi, dinoccolati. Qual è lo stato dell'arte? Sicuramente è una cosa un po' vecchiotta, nel senso che anche la Presidente dell'amministrazione aveva dismesso degli impianti semaforici ma non li aveva smantellati, li aveva lasciati lì. E dunque di anno in anno la situazione è peggiorata come è evidente a tutti, tra l'altro una delle prime cose che questa amministrazione si è trovata di fronte è stata la scelta se spendere 50.000 euro, perché questa è la cifra che ci vuole per smantellare tutti i residui semaforici che ci sono in città, almeno sicuramente nelle principali vie della città, oppure lasciarli lì. E noi abbiamo fatto la scelta di usarli questi 50.000 euro in altro modo. È chiaro che ovviamente poi c'è un altro tema, il tema, questo tutti i fanesi lo sanno, purtroppo lungo le principali arterie della città di Fano passano circa 200 trasporti eccezionali all'anno e non sono pochi. Sono tanti, soprattutto quelli relativi al trasporto delle barche che vanno sia verso il porto di Fano ma anche verso altri porti e in questa occasione già nel 2014 facciamo un'ordinanza che prevede che le ditte che organizzano il trasporto sono obbligate sia a mettere la cartellonistica per anticipare il vieto di sosta eccetera, per anticipare il trasporto, sia è previsto che a loro cura sia anche lo spostamento dei cartelli che eventualmente non permettono il passaggio del trasporto gestionale e sono obbligati a ristabilirlo. I passaggi pedonali che recono sopra il luminoso che ne indica la presenza, quelli sono completamente girati, basta farsi un giro e quello si vede, lì ci vuole proprio un ripristino totale. Seconda cosa, i semafori, le carcasse di quelli che sono anche un po' penzolanti e un po' anche pericolose, quelli è possibile metterli in sicurezza perlomeno gabbiandoli, non so, assicurandoli un po' meglio? Effettivamente un piccolo problema c'è, giusta la segnalazione, sicuramente prenderemo cura di farlo in tempi rapidi, almeno per metterli in sicurezza in maniera tale che non si arrecchi danno sicuramente al passaggio dei pedoni dei ciclisti e lo faremo in tempi rapidi, ovviamente, secondo le segnalazioni che ci sono giunte. Invece per i cartelli, quei segnali pedonali che sono stati girati, ovviamente c'è stata una cosa non corretta da parte di qualcuno, verificheremo e li riposizioneremo quanto prima in maniera tale che sia tutto regolare conforme a come li avevamo installati.